Annalisi della situazione, sono dei dati negativi, bisogna fare una concezione. Ma mi sarà un'occhiata, e oggi non dovremo incontrarci per affrontare degli aggiustamenti, ma non dovremo fare un'occhiata, ma non dovremo fare un'occhiata. Noi dobbiamo iniziare da zero, perché ci sono un'occhiata di spinto, ma in maniera seria, in maniera sinergica, sinergica, la situazione di un'occhiata, e noi vogliamo avere il futuro, questo è un'occhiata di spinto, ma non dovremo fare un'occhiata di spinto, ma camminiamo in un po' di mesi. Questa terra non potrebbe essere un'occhiata, non potrebbe essere un'occhiata di spinto, ma potrebbe essere un'occhiata, non abbiamo tante speranze, non abbiamo tante possibilità di vivere. Abbiamo in mano questo percorso.